Terzo giorno consecutivo sopra quota 700 casi giornalieri per la Toscana. I numeri contenuti all'interno dell'ultimo bollettino regionale sul coronavirus continuano ad agitare lo spettro della zona arancione in vista del prossimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. Ad aumentare infatti sono anche gli attualmente positivi, ad oggi 10.265 sul territorio più 1,7%, così come i ricoveri in terapia intensiva 109 più 4 rispetto alla giornata precedente per una totale di ospedalizzazioni nei posti letto dedicati ai pazienti covid di 752. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati quasi 17.000 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi, escludendo i test di controllo su 7.833 soggetti presi in esame il 9% è risultato positivo. L'età media dei nuovi contagi è di circa 45 anni. Per quanto riguarda le variazioni sul territorio, la provincia di Firenze si conferma quella con il maggiore incremento di casi, più 159, seguita da Pistoia, più 105. Sul fronte della campagna vaccinale anti-covid in Toscana sono state effettuate complessivamente quasi 145.000 somministrazioni, 5.970 in più rispetto al bollettino precedente. Purtroppo si registrano anche 11 nuovi decessi, 4 uomini e 7 donne con un'età media superiore agli 88 anni. In totale le vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Toscana raggiungono quota 4.296.